Alvia, Biceglie, Avvistamenti, la tredicesima mostra internazionale del video e del cinema d'autore presso il Laboratorio Urbano Palazzo Tuputi. È partita ieri 28 dicembre e si svolgerà sino al prossimo 31 dicembre, organizzato dal Cine Club Canudo, che ha allestito presso il Laboratorio Urbano Palazzo Tuputi la tredicesima edizione di questa mostra internazionale del video e del cinema d'autore. A Biceglie, Avvistamenti, il titolo con il patrocinio dell'assessorato all'industria turistica e culturale della regione Puglia, comune di Biceglie e della provincia di Barletta Andriatrani. Anche quest'anno Biceglie e il Palazzo Tuputi ospitano la mostra internazionale del cinema e del video d'autore. Di che tratta questa tredicesima rassegna che, si precisa, non è un festival? Innanzitutto inauguriamo una mostra che è quella su Michele Sambin, sulla sua attività poliedrica, perché Sambin è un pittore, è un musicista, è un autore di teatro, è stato anche uno dei pionieri della videoarte in Italia, per cui seguiamo un po' tutto quanto il suo percorso, anche filmmaker. E quindi l'idea centrale è sempre quella di far dialogare le immagini in movimento, che sono naturalmente al centro di avvistamenti con altre forme, con altre espressioni, come naturalmente le arti visive, eccetera. Invece ci sarà un incontro con Antonello Matarazzo, che è un autore video, anche lui, cioè che fa, diciamo, videocreazione, video sperimentali, e presenteremo questo dbut di antologio che raccoglie alcuni suoi lavori. E poi ci sono altri autori italiani, come Luca Ferri, come Boccassini, come Mazzola, cioè anche locali. Michele Sambin è uno degli ospiti della tredicesima mostra internazionale del cinema e del video d'autore. La sua mostra si intitola Solo. Perché? Beh, solo perché il mio percorso è un percorso di solitudine, ma non solo. In alcuni momenti, in alcuni periodi, mi piace molto un lavoro solitario, ma in altri, come gli anni del teatro, mi hanno visto collaborare con molte persone e in situazioni di equip. Solo è... c'è questo riferimento anche al solo musicale, perché di fatto io nasco come musicista e pittore. E tutto il mio percorso ha cercato di tenere insieme queste due forme apparentemente lontane, ma che per me sono la stessa cosa. Potremmo dire che la solitudine poi non è così malvagia e che regala ispirazioni. Sì, sicuramente l'essere soli mette a confronto con la propria natura e ti rende consapevole di quello che ti circonda. C'è un altro modo di vedere le cose.